Pronto? Pronto? Sono Pippo. Pippo, ciao. Come stai? Senti, come stai? Ci mette questa canzone da Capomattina? Ma qual è il problema? È una bella canzone, dai. Ma perché? Che t'ha fatto? Ma non è vero. È un bravo artista, un bravo cantante. Ma perché? Ma perché? Secondo me sei invidioso. Sei invidioso. Ma lasciami sta. Secondo me sei invidioso perché Biagio Antonacci piace alle donne. Io sogno Pippo, io sogno troppo matelico. Ah mia, basta che ora mi fanno sediare. Io sogno ingestiano pacifico, sogno l'uomo rapace. Però... Però? Se tu mi fanno qualche arifilato a Ciri Reddo. Che succede? Non ci vedo tutto l'occhio. Che gli andati sbatta due a due fino a che finisci un po' sparo. E' meno male che tu sei uno pacifico, eh? Ma io sogno uno tranquillo. Beh, tanto tranquillo non direi, però. Sei un po' violento. Però mi hanno mandato stare nodo. Ma nessuno ti sta dicendo nulla. Perché se non c'è nulla, ti dà punto muro, camerissimo. Secondo me devi calmarti. Fatto di prima. Eh? Io c'è una calata, sai? Seconda terza, quattro guinda. Seconda terza? Ok. Fatto da prima. Io c'è una calata. Seconda terza, quattro guinda. Perché parli così? Perché? Perché sono affrontato i roidi. Ah, ho capito. Comunque, la decisione. Sì. Chieda non è niente di ticare, ma non senti. La vuoi smette. Siete ignoranti. Chieda era sciagliti uocotto. Bravo, però hai visto? Sei informato. Sono un mateloco. Sei informato, però. Amo se che mi piace. Ciao. Ciao. Ciao.